Il grande filosofo Paul Ricoeur diceva che raccontarsi è una strategia dell'uomo per essere, per esistere. In questo corso utilizzeremo il teatro, la scrittura, la meditazione e tanto altro come strumenti di cura e di espressione di sé, perché crediamo che raccontarsi sia fondamentale per stare bene con se stessi e col mondo. Noi siamo Francesco D'Amore, Luciana Maniaci e vi aspettiamo al nuovo corso online della Scuola Holden, Liberare le emozioni attraverso la creatività. Grazie.